Alla mostra del cinema di Venezia va completandosi il concorso ufficiale. Ieri con The Domain, Intiago Gudius, e Gloria Mundi, di Robert Gedigan. Se il primo è un grande affresco di una dinastia di proprietari terrieri in Portogallo, il secondo trova Gedigan ancora una volta nella sua massiglia, per raccontare in piccolo la storia di una riunione di famiglia. In una giornata di esplorazione europea c'è spazio anche per tanta Italia, a partire da Citizen Rosi, un documentario su Francesco Rosi, realizzato dalla figlia Carolina. Il film ripercorre la carriera e la dimensione personale del regista di Salvatore Giuliano. A fargli compagnia i primi episodi della nuova serie di Stefano Soldima, che dopo Gomorra torna ad adattare Saviano in 000. Il focus stavolta è il traffico di droga internazionale. La vedremo in Italia nel 2020.